amici del biancolero ben ritrovati da cristiano corbo lo vedete sullo sfondo il g medical un'immagine che c'era mancata perché dobbiamo dire anche questo dopo un tempo dopo l'ultimo arrivo di qua in cabal è arrivato il giorno di pier calulu e a seguirlo a stalker arlo stiamo scherzando naturalmente ma insomma sulle sue tracce c'era marco amato ciao marco c'è un saluto a chi ci ascolta marco ci racconti la giornata l'emozione insomma dopo tanta attesa anche per calulu è un affare che si è sbloccato di fatto soltanto nella giornata di lunedì perché cristiano giunto le che non avevamo visto allo stadio ma almeno non a due passi dalla squadra come al solito stava lavorando proprio per portare a casa il difensore del del milan un acquisto voluto fortemente dalla società che aveva comunque già perso il piano a calafiore il piano b totibo volato al west ham il piano k mettiamola così pier calulu alla fine è arrivato è arrivato con eh anche diciamo un'investitura niente male perché c'è stato anche un contatto no con tiago motta nei giorni precedenti al suo arrivo insomma c'è per lui adesso un posto di primo di assoluto rilievo mettiamola così alla alla continenza ci racconti intanto le emozioni di questa giornata sì ti racconto un po le immagini anche perché ho visto dopo che abbiamo pubblicato appunto eh il video che c'è un po una mezza polemica dei tifosi per l'umore di calulu la faccia di calulu inizio dicendo che a me sembra un po eh che sia la sua mimica facciale vedendo anche altre immagini eh vecchie di di altre stagioni mi sembra che semplicemente sia eh sia fatto così e aggiungo invece eh che ha fatto tutta la transenna eh come stai bene eh come sapete bene qua alle mie spalle si raccolgono solitamente i tifosi lui ha iniziato eh dal fondo per poi finire fino alle porte del G medical selfie autografi eh circa un cinquanta sessanta eh tifosi magari eh non la folla delle grandi occasioni ma ricordiamo anche che Torino eh in di questi tempi in questi giorni è mezza vuota per per le meritate ferie di tutti eh e quindi è stato molto molto eh disponibile e quindi direi che l'umore è ottimo ma anche perché eh alla fine è vero ci è voluto eh qualche giorno magari qualche settimana eh più del del previsto ma lui alla fine ha scelto di sposare il progetto eh è rimasto eh convinto e quindi non non vedo perché dovrebbe essere eh di cattivo umore nel suo primo giorno alla Juventus ripeto semplicemente mi sembra che sia un po' eh la sua mimica facciale e il suo modo di essere ma impareremo sicuramente a conoscerlo per Calulu ricordiamo intanto le cifre il club bianconero pagherà subito quattro milioni di euro per il trasferimento a titolo temporaneo con la possibilità di incrementare poi la cifra con due tre milioni di bonus e soprattutto poi con la possibilità di poter riscattare il calciatore a fine stagione pagandolo venti eh milioni Calulu che aveva dei dubbi proprio in questo senso cioè sul futuro più che sul presente alla alla Juventus giorni in cui diciamo ci sono state anche rassicurazioni su quel fronte proprio in virtù di un ruolo centrale che avrà il difensore in in maglia in maglia bianconera eh che giornata avrà intanto Marco Calulu eh è passato sicuramente già dalla sede ma prima della firma dopo le visite insomma se ci racconti un po' quale sarà la sua giornata sì innanzitutto come di consueto prime visite mediche quando arriva un nuovo acquisto quindi saranno molto lunghe è entrato verso le nove e mezza quindi ci aspettiamo almeno un cinque e sei ore eh per per l'uscita quindi nel primo pomeriggio poi trasferimento eh in sede saluto con dirigenza allenatore eh eccetera eccetera per poi arrivare alla firma io credo in serata magari potremmo già leggere eh comunicato comunicato ufficiale comunicato stampa e quindi l'ufficializzazione della dell'acquisto di eh Calulu però sappiamo anche lì è un iter molto lungo ce l'ha raccontato anche G Just Juve quando è stato qui ospite che eh al Creator Lab fanno tutto in una volta quindi eh tutti i contenuti che poi vedremo spalmati nelle prossime settimane vengono girati tutti eh nella giornata di oggi quindi eh giornata dedicata per Calulu a questo tipo di di lavoro e poi da domani in campo con eh con la squadra in direzione Verona eh personalmente la vedo dura a immaginarlo già eh titolare però sicuramente nei convocati e chi sta magari anche uno spezzone in campo. Sì diciamo che ci sono delle defezioni ma non non in difesa quindi anche lui dovrà sudarsi eventualmente quel quel posto tra l'altro vi racconteremo proprio in diretta domani l'allenamento della Juve perché sarà aperto alla stampa una parte di tifosi invitati quindi insomma saremo lì proprio per le prime sgambate di Pier Calulu in maglia bianconera e capiremo anche quali sono le intenzioni di Tiago Motta proprio per la sfida al Verona. Marco la tua giornata non finisce qui perché oggi c'è un altro arrivo nel primo pomeriggio eh il greco duemilaquattro Papadopoulos a fare con il Genoa eh cosa sta cucinando anche in questo senso Cristiano aggiunto di cosa dobbiamo aspettarci. Christos Papadopoulos classe duemila e quattro che arriva dal dal Genoa un centrocampista offensivo trequartista l'anno scorso ha debutato in Serie A ma è uno di quei debutti premio mettiamola così perché eh sono stati tre minuti eh in campo con con il grifone però ha fatto molto molto bene con l'under 19 eh rosso blu undici gol eh sei assist quindi un prospetto interessante eh arriva oggi eh partirà dalla next gen di eh Paolo Montero e lo andremo a vedere se giocherà eh anche qui la vedo dura che possa già giocare eh lo vedremo venerdì da Biella e magari ve lo racconteremo e vi racconteremo i protagonisti di eh quella serata comunque segnaliamo il fatto che si lavora anche sul fronte giovani sul fronte next gen. Sì ci sarai proprio tu a Biella inviato nella prima di Paolo Montero in Serie C con chiaramente sulla panchina bianconera contro il Cerignola insomma iniziano tutti i campionati iniziato anche il campionato della primavera di Magnanelli non benissimo perché comunque è arrivato un tre a zero contro il il Genoa e chiaramente prosegue soprattutto la Serie A con la sfida di eh di Verona e capiremo proprio già a partire da domani come Tiago Motta effettivamente riuscirà a eh poi rimpiazzare i due giocatori in questo momento infortunati ricordiamo Turam e UEA rientreranno soltanto dopo la sosta ne approfitto proprio per fare un punto sul mercato e ti chiedo cosa si dice lì nell'ambiente perché oggi sono emersi di nuovo i soliti nomi viene da dire Nico Gonzales su tutti chiaramente c'è l'attesa per Copminers e tra qualche giorno di fatto molto probabilmente se non certamente saremo di nuovo lì a rivivere le stesse emozioni però anche tra i tifosi c'è l'attesa di vedere effettivamente materialmente concretamente questi colpi diciamo che tra i tifosi quando magari si avvicinavano all'area eh stampa il nome più chiacchierato era quello di Copminers eh diciamo non mi stupisce non ci stupisce perché eh c'è un grande punto di domanda e allo stesso stesso tempo il profilo il calciatore più atteso da dai tifosi ma in realtà non solo dai tifosi anche da Tiago Motta dalla dirigenza un po' tutta la Juventus che come riaccontiamo l'ha fissato un po' come il piano A di questo di questo mercato eh anche se poi in realtà però il nome che ci sembra e che sicuramente è più caldo è quello di Nico Gonzales e in questo senso è una giornata molto molto calda non solo dal punto di vista climatico eh perché sembra che già oggi con l'ultimo contatto tra Juventus e Fiorentina si possa arrivare eh a chiusura e quindi chi sta magari già domani o dopo domani saremo di nuovo qua a raccontarvi l'arrivo dell'argentino. Noi come sempre ci muoveremo in base a quello che che succederà Marco io ti ringrazio eh rinnovo anche l'appuntamento per la live di di oggi alle alle sedici torna colpo gobbo incredibilmente dalla dalla Sardegna c'è la maschera ospite poi c'è Marco chiaramente lì dal Gemedica al zona Continassa per raccontarci tutte le ultime notizie e soprattutto il Calulu dei insomma dopo tanto tempo dopo l'abbiamo detto l'ultimo era stato caballa la Juve torna ad accogliere un nuovo volto un nuovo volto che sarà molto molto importante in questa stagione grazie Marco grazie Cri e ci rivediamo con tutti alle sedici in live